buongiorno a tutti ragazzi bentornati sul mio canale per questo nuovo video della demixing series scusate l'assenza sul canale ma il nostro computerino ha deciso di fare un po di storie quando è andata via la corrente ha corrotto dei file all'improvviso e quindi che cosa è successo che ho perso il progetto su cui stavo lavorando ovviamente avendo le stems ho potuto ricostruirlo lo vedete un po' differente ho colto diciamo l'occasione per metterlo in ordine in questo video di oggi andiamo a parlare comunque ragazzi delle percussioni allora eravamo arrivati al fatto che erano stati inseriti il plug synth led il basso il kick ed il piano quest'oggi vado ad inserire all'interno del programma le mie percussioni allora andiamocele a isolare andiamo a sentire come suonano le percussioni insieme e dopo andiamo a vedere che cosa è stato fatto allora ovviamente riser essendo formato da snare lo considero come percussione a tutti gli effetti allora abbiamo clap clap 2 et cymbal e riser allora che cosa abbiamo fatto abbiamo assegnato come vedete è un po cambiato anche il mixer qui ci sono i bass di rimando di cui vi parlo dopo quindi non guardate i bass di rimando qui ci sono tutti gli effetti in sending questi quattro canali come vi ho spiegato anche in altri video sono quattro canali di sending a cui come vedete vedete qui sotto arrivano quattro freccette per ogni canale cioè questo canale è collegato a tutti e quattro questo è collegato tutto il mixer è collegato a questi quattro canali ecco allora che cosa succede che quando io vado a mettere che ne so clap come vedete alcuni volumi nel mio canale nei miei canali di sending sono aumentati quindi sto dando un po di riverbero un po di delay e un po di ambient reverb cioè praticamente questi sono effetti standardizzati per tutte le mie tracce decido io vedete quanto aggiungerne ad ogni suono che vado a trattare allora il clap in questo caso non aveva bisogno di una compressione diciamo ragazzi che non è c'è sempre bisogno di una compressione è stato solamente equalizzato vediamo come sono andato a fare un low cut ho utilizzato il filter pro q2 perché è molto simile all'equalizzatore parametrico allora ho utilizzato un low cut sui 140 hertz sono andato perché ovviamente non mi interessa la parte bassa delle la mia la la low end del clap sono andato a togliere intorno ai 2878 un decibel e 8 perché ho rilevato che qua diciamo c'erano alcune impurità nel suono che non mi piacevano ho voluto lasciare soprattutto le alte gli 8.000 hertz sono andato a fare un high cut a 14.000 ho tolto tutto ciò che c'è dopo i 14.000 comunque per essere un po più chiari andiamo a sentire come suona il nostro clap ovviamente il clap viene mandato nel percussion room adesso ve lo disattivo e prendo il solo clap sentite come suona pulito vedete da qui in poi c'era solo l'is adesso vi sto isolando la la frequenza di 14.000 ve lo lascio sentire senza che io parli lì c'era solo quello che andremo a togliere con il de-esser qui c'era la parte altissima del clap che mi interessava da diciamo da da dare in enhancing da aumentare sentite com'è fangoso qui quindi essendo fangoso ho tolto e ovviamente questa parte qua ragazzi vabbè io ve la mando lo stesso ma lì sotto ho tolto tutto c'è il totale silenzio perché ho dato una bella tagliata a frequenze di interferenza che non mi interessano la percussion room è un bass come vedete ci va il clap il clap 2 let il symbol l'ho mandato direttamente nel nel master perché non lo volevo nella percussion room ed un riser che idem va direttamente nel master bus quindi che cosa succede la percussion ram gestisce clap clap 2 e andiamo a sentire come cambia il suono il suono si ammorbidisce di molto va ad abbassarsi allora nella percussion room è presente un equalizzatore ma vi ho detto poi ve ne parlo poi un tool che non ha uguali ragazzi c'è il maserati drm stereo non ha uguali quindi non saprei cosa dirvi di scaricare al posto del maserati drm cioè proprio quello è un plugin unico è stato fatto da uno dei più grandi ingegneri di mixing che è toni maserati e non ha uguali e poi c'è il pamper con cui faccio il side chain avevo messo anche il limiter perché vi ricordate avevo avuto qualche problemino con la side chain compression quindi che cosa vado a fare vado a settarmelo alla fine del progetto per vedere se il kick va ancora fuori tempo in caso dovesse andare ancora fuori tempo mi tengo il pamper stereo pamper stereo che è il side chain di tutte le percussioni cosa molto importante che ovviamente essendo nel mio percussion room e entrando nel percussion room clap clap 2 e et affligge soprattutto questi tre e non tocca il simbale riser dove non mi interessa avere una compressione di una si vabbè diciamo il side chain non mi interessa avere ecco oltre il clap 1 abbiamo un secondo clap che dovevo il compito diciamo di far spiccare lo stesso avendo già un clap che come sentite spunta benissimo il clap 2 gode allo stesso modo di una sola equalizzazione ho utilizzato quest'altro equalizzatore che mi permette di andare a toccare determinate frequenze e di essere un po' più preciso solo su quelle frequenze dove mi interessa intervenire ho aumentato a dismisura i 16k ho aumentato un po' gli 8k e i 4k quindi 4kHz 8kHz e 16kHz per dare diciamo una bella potenziata alle alte frequenze che mi interessavano sentite come suonava prima troppo medio troppo centrale ok così l'ho mandato molto più alto 500-250 abbiamo abbassato tutto normale ovviamente quando dico 500-250 passo una leggera diminuzione poi abbiamo abbassato un po' il low end che tanto comunque in questa clap andava leggermente corretto perché non era presente ragazzi io ci tengo a dirvi che gli equalizzatori che setto sono per i miei suoni vi sto spiegando quello che faccio sui vari suoni come vanno trattati cioè nel mixing e nel mastering nel mixing scusate no nel mastering voi in ogni canale dovete avere equalizzatore e compressore ma non è detto che dovete usarli tutti e due equalizzatore e compressore e gator in teoria perché? perché se vi serve l'equalizzatore equalizzate ma non è detto che tutti i suoni abbiano bisogno di una compressione ricordatevi che la compressione riduce la gamma dinamica di un suono lo restringe e lo costringe in una gamma in decibel più piccola quindi se voi avete un suono che già si trova in una gamma dinamica piccola è inutile che lo comprimete perché andate a fare un lavoro di sopra compressione uccidete le dinamiche e il suono non suona più naturale quindi più che un effetto positivo ottenete un effetto diciamo contrario a un effetto positivo che è un effetto di distruzione invece che di costruzione abbiamo let infine ecco qui ho trovato una preset molto interessante la Darlington EDM I-H l'ho inserita e sono andato a fare delle piccole modifiche e queste modifiche che sono andato a fare consistono nel aver messo un high pass filter o un low cut come preferito ovvero un pass alto o un taglio a basso ecco a 76 Hz perché nell'Aiette non mi servono quelle frequenze l'enhancing diciamo di quasi 3 decibel a 8 kHz era interessante così come l'aveva messo il signor Darlington poi ho dato un bel enhancing intorno ai 1,70 ok intorno a 1,7 kHz ho dato un enhancing di 7.5 decibel per dare tante alte medio-alte frequenze sono andato a togliere ovviamente ragazzi come faccio sempre intorno ai 500 Hz i miei 3.3 decibel e sempre i miei 3 decibel intorno ai 66 Hz dite perché a 66 Hz togli 3 decibel sei tagliato già fino a 70 perché lo faccio ragazzi perché pur avendo tagliato questa è una curva che scende che influisce la mia entrata nelle basse frequenze quindi va a togliere ulteriormente sporcizia non ho compresso non ho usato gating come vedete la threshold è a 0 la ratio è a 0 non è stato settato veramente niente perché non avevo intenzione di fare una traccia sovracompressa il risultato è questo di tutte le percussioni insieme esce tutto molto egregiamente ovviamente ho un sidechain delle percussioni che lavora e va a smorzarle leggermente sentiamo come ecco questa è una cosa che sentiranno soprattutto le orecchie di chi è ben allenato le orecchie di chi è ben allenato perché sentire il sidechain sulle percussioni ragazzi è questione di sfumature questione di sfumature che sentite molto bene allenando il vostro orecchio quindi ragazzi fate mixing fate mixing allenate l'orecchio sbagliate sbagliate tranquillamente ricominciate da capo ogni volta che sbagliate fate più versioni di un mix datevi un tempo limite ascoltate tutti i vostri mix che andate a fare renderizzateli uno per volta e poi li paragonate vedrete che il vostro cervello è in grado di produrre 10.000 mix differenti che non c'entrano niente l'uno con l'altro quindi ragazzi apprezzerete queste sfumature solamente con tanto 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 allenamento poi come vi ho detto c'è un cymbal per tornare a noi abbiamo un cymbal che non è messo in nessun canale ragazzi io cymbal cymbal come volete e non è messo dicevo in nessun canale di nessun bass no canale se sbaglio le parole poi sbaglio il discorso è mandato direttamente nel master questo cymbal ha una equalizzazione abbastanza diciamo tranquilla parte sempre dal preset overheads come nell'iET però non è come il preset overheads nell'iET è leggermente modificato i 500 stanno un po' più in alto dei piccoli dettagli che fanno comunque la differenza perché adesso io vi faccio sentire dopo vi dico come ho usato lo shaper un secondo vi faccio sentire il cymbal senza equalizzazione e con l'equalizzazione questo è il cymbal normale è molto più brillante poi ovviamente c'è lo stereo shaper aprite il fruido di stereo shaper e vi modificate questi due valori io l'ho spostato un po' più forte a destra rispetto che a sinistra questo video ragazzi che sto facendo è un video comunque di introduzione alla demix in series in cui lo stereo shaper non va messo solitamente nel canale del cymbal vanno fatti i rimandi di sending con i vari come faccio il sending per questi riverbero delay liquid ambient che come vedete sono collegati a tutti i canali e poi rimangono sempre loro gli effetti io decido quanto volume alzare su ogni effetto ecco che cosa succede che io quando vado a creare un'immagine stereo invece di mettere lo stereo shaper qui dovrei aprire un altro canale mettere stereo shaper high end delle alte frequenze mettere il cymbal andare qui sotto e collegarlo all'ipotetico canale poi andare sul canale e regolarmi lo stereo shaper io per comodità d'uso l'ho fatto più velocemente qua e settiamo la differenza come sentite l'immagine stereo è leggermente spostata verso il canale di destra poi veniamo a noi ragazzi c'è l'ultimo nostro amico ovvero il riser che è fondamentalmente uno snare cioè tanti mi fanno questa domanda questo è un impact questo è un effetto l'impact è un kick fondamentalmente cioè dipende poi ci sono gli high impact e i low impact se voi avete un low impact a meno che non è campionato da un synth o da una linea di basso e comunque vedete avete un indizio su che cosa state trattando un low impact solitamente è un kick è un kick privato delle alte frequenze boom ok se invece fa stum sarà un kick dove invece sono state lasciate intatte tutte le frequenze c'è stato anzi un enhancing delle alte frequenze quindi come tratto l'impact come un kick in quel caso come tratto il riser se il riser in questo caso è costituito da snare come tratto il riser come uno snare allora infatti il presetino sopra qual è? snare ragazzi voi vedete sempre i nomi dei preset io non mi vergogno cioè assolutamente ragazzi ingegneri e ingegneri e ingegneri veramente pluriaffermati usano preset standard partono da lì e poi modificano valori quindi voi potete anche leggere una tipologia di preset lì invece che insert A io l'ho messa e sono partito da quella alla grandissima che cosa succede? che togliamo compressore e equalizzatore sentiamo il solo suono sentiamolo con l'equalizzatore diventa molto più brillante vedete l'ho trattato come uno snare ho capito che erano snare e invece perché spesso ragazzi toccare riser effetti cose distrugge quello che avevate in mente quello che avevate costruito precedentemente invece se voi capite quello che state trattando non lo super trattate ma lo regolate a puntino che cosa succede? che regolando a puntino questi suoni prendono quella caratteristica in più anzi guadagnano qualcosa vengono valorizzati e il che ci aiuta e poi qui c'è un bel compressore C6 stereo che è settato sempre su una tipologia snare che mi va ad ampliare molto le alte frequenze che mi sono di aiuto in fase di carica sentite senza? attivo c'è praticamente questo compressore multibanda che cosa sta facendo? mi sta tenendo in up ok? prende le alte frequenze le va a comprimere in basso cioè i suoni vengono elevati è come questo è come un equalizzatore parametrico io vado a fare l'enhancing delle alte frequenze delle altissime frequenze e delle sì medio frequenze in questo caso perché le medio frequenze cominciano a 203 quindi vengono considerate medio vado a fare un enhancing quindi come un equalizzatore alzo queste frequenze e dopo che ho alzato queste frequenze dico al mio compressore di controllarle ovvero di fare con la threshold la compressione vedete le porta in giù le controlla ragazzi ragazzi questo era l'ultimo suono delle percussioni però di te fede non hai detto i volumi esattamente li ho lasciati alla fine perché quando si parla di percussioni si parla di volumi di tutte le percussioni allora era importantissimo sapere che tutte le perché si apre Cortana che cosa vuoi da me Cortana e dicevo scusate le percussioni si muovono su livelli che devono essere molto 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 ben regolati fra loro perché se no ragazzi è da po' problemino allora che cosa vado a fare vado a vedere il livello generico delle mie percussioni siamo intorno ai meno 14 meno 13 decibel allora partiamo anche da un altro presupposto clap meno 21 come vedete a meno 21 il clap già si sente questo suono sta un po' più alto meno 18 perché è meno prominente e si sente e si continua a sentire anche il clap let è uno dei suoni predominanti nelle percussioni quindi non va tenuto alto meno 21 tendente al meno 24 eppure tutto esce cioè ragazzi si sente tutto poi quanto far sentire il clap quanto far sentire il secondo clap quanto letta è a livello stilistico ma comunque nello stilistico vi andate a regolare i livelli ma nel giusto a livello teorico dovete sentire tutti i livelli se no se non sentite un suono è inutile che l'avete messo quando finiamo diciamo di fare questo tipo di mixdown cioè io qua quando entrano i pack devo sentirli tutti ragazzi sentite il cymbal sentite il cymbal in entrata entrata percussioni c'è tutto riser cioè capito ragazzi i volumi delle percussioni alcuni mi mandano dei lavori e mi dicono dammi un giudizio non è una critica ragazzi attenzione anzi è spiegazione costruttiva questi lavori che mi mandate sento sempre perché le percussioni sono a meno 12 meno 9 decibel ragazzi una percussione non può stare allo stesso livello del kick copre tutto vi occupa nel range dinamico cioè voi dovete capire quando fate una canzone voi state fra 20 hertz e 20 kilohertz non possono entrare infiniti suoni fra 20 hertz dentro questa banda voi dovete fare entrare tutti i suoni che avete utilizzato qual è la grandezza di un ingegnere del suono di un mixing engineer di un mastering engineer fa stare tutti i suoni in quello spazio ai giusti livelli ai giusti volumi senza che nessuno schiacci l'altro ok ragazzi poi parliamo di tutte canzoni perché non è che senza la voce cioè la voce è lo strumento più importante in una traccia la cosa che va trattata prima io al momento non ho disponibile tracce vocali se no avrei fatto una traccia con la voce cioè ragazzi la voce è la cosa più importante vi occupa una gamma dinamica che fa paura quindi voi non potete settare la percussione di tetto a meno 9 a meno 12 è troppo alta cioè la ietta in alcuni casi io e si sentiva benissimo l'ho settato a meno 26 decibel è troppo alto ragazzi abbassate i volumi adesso comunque vi spiego perché si fanno questi errori quando si fa il mixing e lo ripeto per la 141esima di la volta il volume deve essere basso ma basso cioè tipo così così ragazzi basso basso se voi sentite tutti i suoni in quel volume basso e lì le percussioni è proprio lì la cosa il kick e le percussioni escono subito quindi vi fermate non fate l'errore di andare più su col volume perché ve ne accorgete proprio allora stiamo ragazzi 10 passi avanti allora tornando un attimo al volo al mixer ragazzi poi io di questi rimandi di questi bass ve ne parlo a parte e dei canali di sending c'è molto poco da dire sono dei canali di sending che sono stati creati con effetti un reverb ambience vabbè un riverbero molto largo che fa ambient un liquid delay che è un delay che tende a diciamo a distruggere il suono a renderlo liquid che è un po' di coda una specie di coda difficile ragazzi da spiegare è questo che sentite dopo ve lo faccio sentire faccio prima sentite adesso dopo il cymbal che c'è qualcosa che rimane quello è il liquid delay poi abbiamo il normalissimo delay che provoca una ripetizione nel tempo settato ovviamente vedete stereo shaper ho tutti i rimandi col phaser per fare già l'immagine stereo era per quello che vi dicevo che non andava messo nel canale e poi c'è il normalissimo riverbero diciamo creato special si special special boost è sempre un tipo di riverbero non è un plugin ragazzi attenzione uguale vale per crazy delay uguale vale per weather che è sempre il fruity reverb cioè non c'è niente di troppo particolare uguale vale per ego che è un tipo di settaggio nel delay per questo video di oggi ragazzi pugnetto sua scrivania è tutto noi ci vediamo dopo in un prossimo video sicuramente perché sono stato assente dal canale quindi devo recuperare quindi ci vediamo fra poco tempo che ho di registrare il secondo video perché questo è già pronto ragazzi da ieri sera e niente come sempre io vi invito a lasciare un bel pollicione in giù se questo video vi è piaciuto pollicione in giù se questo video non vi è piaciuto è di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati a condividere questo video con tutti i vostri amici ho fatto a tempo dei record ragazzi velocissima chiusura io vi auguro buon divertimento su FL Studio buon mixing e noi ci vediamo fra poco in un prossimo video ciao a tutti ragazzi grazie a tutti